Qual è l'obiettivo della conferenza stampa organizzata oggi da tutti i gruppi di opposizione? L'obiettivo è quello di fare il punto un attimo su questa vicenda del terremoto, in modo particolare sull'aspetto dell'emergenza, che ancora non finisce, e di questo fallimento per quanto riguarda la ricostruzione. Guardate, credo che ci sia un fallimento proprio nei tempi. Ho dimostrato il fatto che nel decreto mezzogiorno, che sta per essere approvato in questi giorni alla Camera, lo stato di crisi e di emergenza viene prorogato a febbraio del prossimo anno. Questo significa che sia in forte ritardo per quanto riguarda la realizzazione anche delle abitazioni di emergenza, le mitiche e famose casette, per cui c'è il rischio veramente concreto che tante persone passeranno ancora, questo è il prossimo inverno, quello del 2017, in albergo oppure disseminati lungo la costa o addirittura nell'entroterra in qualche via e via. E questa è una cosa deplorevole che non è accettabile. C'è un altro aspetto poi da segnalare, che è quello della ricostruzione dal punto di vista proprio della pianificazione. Guardate, faccio un esempio banalissimo, parlo del cratere di Ascoli, le macerie pubbliche sono state estimate in circa 450 mila tonnellate, e ne sono state rimosse appena 50 mila, il che significa che siamo appena oltre il 10%. Significa che noi ancora abbiamo anni di ritardo per portare via le macerie e al tempo stesso non si è avviato alcun processo di ricostruzione urbanistica, perché il problema della ricostruzione non è la ricostruzione della singola casa, è la pianificazione di paesi interi che sono stati distrutti. Non vediamo ancora alcun movimento da questo punto di vista, siamo molto, molto preoccupati e soprattutto vediamo una regione inerme, una regione che non riesce in qualche modo a fare un programma, un progetto serio da portare sul tavolo del Ministero della Protezione Civile o comunque del Governo per far sì che ci si dia una mossa o una svegliata. Siamo molto preoccupati da questo punto di vista e quindi noi vorremmo, senza grosse polemiche, ma vorremmo proprio oggi segnalare questo grave ritardo e questo grande stato di disagio che i territori stanno vivendo.